Buongiorno amici ma soprattutto amiche di Svegliati Alessandria, oggi è mercoledì 7 settembre 2022, mi trovo qui in piazza Mentana, quartiere pista di Alessandria. Come potete vedere da queste immagini, finalmente la vecchia stacionata, che era tutta rotta, brutta da vedere, decadente eccetera, sta per essere sostituita. Qui ci sono i lavori in atto, c'è questo cantiere, ci sono i nastri che delimitano questo lavoro e qui con noi abbiamo, non può mancare il nostro amico, il professor Luigi Manzini. Con i cani, oggi sono con i cani. Abbiamo le cagnoline oggi. Questa è l'Eda e questa è Zelda. Ok, professore. Cosa dire, quando le cose vengono fatte bisogna riconoscerle. In effetti era anni che la stacionata era in pessime condizioni, è arrivato il tempo e è arrivata anche questa amministrazione che evidentemente ha ritenuto urgente, visto che poi proprio recentemente erano anche crollate, erano proprio crollate, quindi erano marce e quindi hanno fatto bene e si riconosce il lavoro. Anche questa colorazione si dà un po' di vivacità a questo parco che comunque è anche nella manutenzione ordinaria, un pochino sciatto, un pochino lasciato a sé e qui abbiamo anche dei giochi che andrebbero rinnovati. Comunque bisogna riconoscere quello che è stato fatto e quindi un buon intervento. Anche dalla parte opposta, professore verso via le medaglie d'oro, anche di lì la stacionata sta per essere sostituita, ci sono i lavori in alto. Il lavoro deve essere completo, quindi tutto il contorno, tutto il perimetro della piazza deve essere completato e quindi noi ci auguriamo che avvenga il più presto possibile perché qualcuno si è lamentato. Noi siamo abituati a lamentarci che comunque i lavori sono stati interrotti da un po' di tempo. Per esempio ho sentito quella signora lì che si è lamentato che non l'hanno ancora terminato, però d'altra parte… A proposito di lavori, professore, poi eventualmente faremo qualche servizio prossimamente. Da domani ripartono qui in pista i lavori per il teleriscaldamento. Altre spaccature, altri scavi, altri disagi, una sua considerazione proprio breve. Non lo so, io non sono un tecnico, so che comunque è due anni che quel quartiere è sottoposto a scavi, contro scavi, a disagi e contro disagi. Io non so tecnicamente quanto ci voglia per completare un circuito, però insomma mi sembra che si stia andando per le lunghe. Magari si va a spaccare dove si era già spaccato. Questo sarebbe veramente l'esatto contrario di quello che noi abbiamo sempre detto, cioè un coordinamento dei lavori e un controllo anche. Va bene. Ci rivediamo prossimamente allora. D'accordo, d'accordo, professore. Un saluto a Leda e a Zelda. Qui da Piazza Mentana è tutto. Ancora apprendiamo con molto piacere questi lavori. Verremo a verificare a lavori ultimati com'è questa situazione. Qui da Piazza Mentana è tutto, ci rivediamo poi in un altro servizio. Svegliate Alessandria, buona serata a tutti.